un altro blu vabbè non le sto neanche prendendo io dai bello si dobbia pusciare per forza non è una cosa positiva raga è la pistola la pistola pesante vale come pompa giusto sì 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 e tutti tutti altri tutti gli attrezzi granate con i cerchini però gli attrezzi tutti tipo granate ci ballo sopra aveva aveva il chug chug c'è uno gioco 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 c'è uno l'assalto con mai buona storia vale un altro bravo se vuoi prendi se vuoi prendi però se vuoi essere il preciso possibile c'è un altro no ah vabbè è raccontato vai è mio a me serve a me serve dove best challenger questo cos'è una metà che tovottica raga io vi consiglierei di tenere lo stesso l'assalto perché magari abbiamo nelle top che ne so vogliamo uccidere no ok la niente 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 va bene o gente c'è 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 qua io non sono i porti che fanno ma manco mi guarda lol non c'è un altro ma è già mamma mia che male che io ho fatto a questo qua mi servono colti per il pompa urgente anche colti per il pompa ah gente 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 la gente la andiamo raga andiamo andiamo ci sta coprendo raga ma io li vedo che fanno continua a sottarlo continua a sottarlo ma devo venire da noi raga la safe la safe vedere la safe la safe lasciamoli venire da noi appunto raga mi ha preso ok mi ha tolto uno vabbè ovvero o è morto o è cretino non lo so entrambi mi sto facendo ma non sta entrando in safe ti ho detto che è cretino Ma è cretino Hai proprio ragione Non lo so raga Sarà morto O sarà uscito da qualche altra porta Facciamo che è cretino morto Così entrambi Ah raga da me, raga da me Maria L'ho ucciso con la silenziata Maria Ti prego dammi un bollut L'ho ucciso con la silenziata Si può usarla silenziata Eh percorso In teoria Eh la silenziata Vabbè scusami La pesante voglio dire Ecco mi sembrava strano Lo dicessero proprio così Con tanta euforia Non è perché la pesante Non la può fare bene Nel percorso sono esaltato Raga io ho 99 di vita E 100 di scudo Mamma adesso arrivo Colpi per il cecco Verra pompa Non avete? Eh cecco mi servirebbe Pompano Ne ho scantissimi Io ne ho 22 Del pompa Anzi le sbuccio con Si per una fight mi bastano Però boh Dove? Si troppo Decissivamente Raga salite Salite con me Ma che falla però Io prendo sta cassa Oh lancia razzi rosico Io pure ti sto andando Raga tanto la partita Di quello che ho più o poco Sare Oh è sopra Guardiamo colpi denario Bravi Uh chug chug Prendete il chug chug Prendetelo A me non serve Avete i medikit Medikit Raga io non lo posso prendere Il chug chug Medikit Medikit No vabbè Non perche se vende Vabbè l'ho preso Sì che ciò sta Da dove giù Ma da dove giù Dove era Vero Siamo in 13 Raga Comunque vale È stata una bella partita Eccoli No Gio Perché hai piaciuto Eh raga Eh raga questi sono bravi Ah non per me in 13 Ho fatto a non prenderlo Io ho fii del legno No mi sto calciando Mi sto calciando Con i tasti raga E poi Appunto Sono andranno in ansia Non va bene Ma voi siete entrati in safe Senza dirmi Lo sto Ma di modo Verificare Poi Provare qualcosa Ma che stanno Ci sta Stando Gio L'ho finito il legno Gio Gio prendi questo Gio prendi questa Siamo in 9 Gio prendi quella scuola Gio Un minuto sto finendo E mi sciottano Ah le ho visti raga Uh sono qua raga Sono qua Eh dacci Dacci informazione per qua Ma sono raga E quindi E quindi E' vera In formola E' vera Ciao Ciao Ciao